Voci.fm, il magazine sul mondo della voce. Abbiamo il piacere di annunciarvi che Voci.fm Radio è partner di Voxil Voce Gola a Sanremo 2022. La web radio di Voci.fm, tutta dedicata al mondo della voce, come la testata online da cui nasce, affianca infatti Voxil Voce Gola nello stand centralissimo sotto il colonnato di Piazza Colombo, a due passi dal Teatro Ariston, tempio della grande canzone italiana. La postazione, che vede anche la partecipazione della cooperativa Esibirsi e di Radio Flash, punta a richiamare tutti coloro che amano e o lavorano con la voce durante l'intera durata del festival, quindi dal primo al 5 febbraio, e diventarne punto di riferimento nei giorni in cui la voce è protagonista assoluta della città dei fiori. Cantanti e aspiranti tali, ma anche speaker e doppiatori, nonché appassionati del mondo della voce a 360 gradi, sono i benvenuti al nostro stand, dove possono trovare nuove imperdibili occasioni di autopromozione, grazie alla ricca proposta di offerte di Voci.fm, la più grande community di settore in Italia. Contare sull'aiuto offerto da Voxil Voce Gola, l'integratore naturale a base di erisimo alleato della voce, scoprire com'è facile mettersi in regola, da un punto di vista legale e fiscale, con esibirsi. E naturalmente ricevere in regalo tanti gadget di Voci.fm e campioni gratuiti Voxil Voce Gola. Sarà inoltre da qui che Voci.fm Radio e Radio Flash racconteranno in diretta ai loro ascoltatori la vita sanremese e il festival con tante chicche e curiosità. Un infopoint a tutti gli effetti, al completo servizio di cantanti e artisti che fanno della propria voce uno strumento importante per il loro lavoro e la loro vita. Passate a trovarci, noi abbiamo voglia di conoscervi. E voi? News dal mondo della voce. Radio doppiaggio. Voci.fm, il magazine.